Inaugurazione della postazione di defibrillatore pubblico e lezione sull'uso dell'apparecchiatura alla popolazione. Petrella Tifernina, attenta alla sua comunità. Anche Petrella Tifernina è ora un comune cardioprotetto. Nel piccolo centro in provincia di Campobasso è stata infatti installata una postazione di defibrillatore pubblico. Un traguardo raggiunto grazie all'impegno della locale amministrazione e di Romano Amoroso e Antonio Simpatico, dirigenti della società calcistica di Petrella. Il defibrillatore è stato collocato nella piazza centrale del paese e per raggiungerlo è stata predisposta una opportuna cartellonistica stradale. Siamo coscienti, ha commentato il sindaco Alessandro Amoroso, di quanto sia importante avere un presidio rivolto a cittadini e turisti e proprio a questi ultimi è stata dedicata l'iniziativa che è seguita all'inaugurazione della postazione, un addestramento per l'intera comunità. L'associazione Life Aid, guidata dal dottor Nicola Camposarcone, ha fornito importanti indicazioni sull'uso del defibrillatore, spiegando elementi ed illustrando manove di primo soccorso. Ribadita nella circostanza l'importanza di formarsi per essere sempre pronti ad intervenire in caso di necessità. Il defibrillatore è custodito all'interno di una teca acquistata dal comune, collegata ad un sistema di allarme e ad un impianto per il mantenimento della giusta temperatura, fondamentale per non compromettere la funzionalità del dispositivo. Accanto alla postazione sono indicati inoltre i ricapiti di coloro che sono abilitati all'uso dell'apparecchiatura sul territorio.